e del Santo Rosario Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni Dal Santuario della Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus e il Santo Rosario in unione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione Preghiamo oggi Maria, Madre di Gesù per i bambini, i ragazzi e i giovani e i loro educatori perché accolgano e vivano con gioia il Vangelo come la ragione della loro vita L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e della concepì per opera dello Spirito Santo Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amore Eccomi, sono la serva del Signore Si compie in me la tua parola Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amore E il Verbo si fece carne che venne ad abitare in mezzo a noi Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, amore prega per noi, Santa Madre di Dio perché siamo resi degni delle promesse di Cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore Ave, piena di grazia Ave, Vergine Maria Ave, piena di grazia Ave, Vergine Maria Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria Pater noster qui essi in Cielis, Santificetur Nomen Tum Adveniat Regnium Tum Fiat Voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra Pane nostrum quotidianum da nobis odie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nosa malo Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictus benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictus benedictus fruttus ventris Tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amén Maria, regina della pace prega per noi prega per noi amén l'odato sempre sia il santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta Padre Padre Piena di grazia il Signore il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Gesù Santa Maria Piena di grazia Maria Adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amén Maria Regina della pace prega per noi prega per noi lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe Maria Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci Nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Le Seigneur è avec vous. Vos etes bene entre tutte le fanno. E Gesù, il frutto di vos entrailles, è bene. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Le Seigneur è avec vous. Vos etes bene entre tutte le fanno. E Gesù, il frutto di vos entrailles, è bene. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Le Seigneur è avec vous. Vos etes bene entre tutte le fanno. E Gesù, il frutto di vos entrailles, è bene. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Le Seigneur è avec vous. Vos etes bene entre tutte le fanno. E Gesù, il frutto di vos entrailles, è bene. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Le Seigneur è avec vous. Vos etes bene entre tutte le fanno. E Gesù, il frutto di vos entrailles, è bene. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce. Prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e allo Spirito Santo. Nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le mujeres, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llenares de gracia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia, in Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i Dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, l'odato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Martino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Prego per noi, Conforto dei migranti, Prego per noi, Consolatrice degli afflitti, Prego per noi, Aiuto dei cristiani, Prego per noi, Prego per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo, Preghiamo. O Maria, Vergine lauretana, Il mondo ha nostalgia di te. La tua piccola casa è memoria eloquente di valori perduti, Ma ancora sognati. Le povere pietre silenziosamente parlano e gridano Che è Dio la vera ricchezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda Che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine lauretana, Il silenzio della tua casa custodisce un sì che ci appartiene, E al quale noi tutti apparteniamo, E il sì che è interrotto la catena dei nostri no. E il sì che è diventato Corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo, Ieri, Oggi e sempre. O Maria, Vergine lauretana, Mentre passano i secoli e i millenni, Noi ci appoggiamo al tuo cuore materno per intonare nel nostro povero cuore la melodia del tuo sì, che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la Santa Casa dei Figli di Dio. Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta, Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, e ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace, Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, particolarmente sulle persone che si raccomandano all'intercessione della Vergine Lauretana, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. In terra d'Oriente viveva Maria, regale, fanciulla, purissima e pia. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie a Dio Onnipotente.